Hanno un'identità i resti ossei rinvenuti nell'ex Diga Garcia del fiume Belice nel dicembre 2020, a dare una svolta i carabinieri del Nucleo Investigativo di Moreale del Comando Provinciale di Palermo, che attraverso gli accertamenti tecnici svolti da RIS di Messina hanno attribuito una identità ai resti umani. Si tratta di Salvatore Mulè, potrebbe essere un caso di Lupara Bianca, tesi che i carabinieri del Nucleo Investigativo ricondurebbero ai trascorsi criminali della vittima e ai rapporti che lo legavano ad esponenti della malavita organizzata. Di Salvatore Mulè non si avevano più notizie al 1 febbraio 2006, data in cui scomparve da Camporeale. L'uomo, pluripregiudicato, era un allevatore di animali, nipote di Rosario Mulè, detto Manuzza, gravitante nel sodalizio mafioso di Camporeale, deceduto anche lui nel 2014. Grazie.